Ciao a tutti ragazzi sono Shadot e oggi vi spiegherò come installare le mod in Minecraft versione 1.6.2 e il processo è un po' diverso da quello che si faceva prima perché appunto c'è il nuovo launcher e in questo video installerò la mod Too Many Items che vi darò il link in descrizione appunto per fare un esempio di mod che potrete installare su come si fa a installarla allora iniziamo andando su start e segui appdata.minecraft e andiamo su versions e qua troveremo la cartella col file jar di Minecraft allora noi andremo a copiare questa cartella e la rinominiamo per esempio TMI cioè Too Many Items e andremo a rinominare anche file al suo interno in TMI ok una volta fatto ciò apriamo il file json e a id ci scriviamo TMI o comunque come abbiamo chiamato il file ok una volta fatto salviamo chiudiamo e apriamo il file jar con un programma di archiviazione come WinRAR ma potete usare anche 7zip o WinZip e una volta aperto andate ad aprire anche la mod che io l'ho già scaricata che è questa e proprio come facevate nelle vecchie versioni di Minecraft andate a copiare tutti i file dall'archivio della mod nel file jar di Minecraft ok una volta copiato tutto ricordatevi sempre di cancellare meta-inf perché se no la mod non funzionerà e una volta fatto anche questo la mod è installata quindi andiamo ad aprire il launcher e su version ci dovrà essere scritto release TMI o il nome che avete dato al file che abbiamo rinominato prima se non c'è scritto release TMI per caricarlo dovrete andare su edit profile e su version dovrete mettere release TMI comunque una volta messo cliccate su play offline vi si aprirà il gioco andiamo in un mondo a caso per farvi vedere se funziona la mod premiamo l'inventario premiamo O e come vedete la mod funziona abbiamo tutte le cose del Too Many Items se andiamo a cercare anche per esempio Horse vedete che anche la versione 1.6.2 funziona quindi niente abbiamo installato la mod con successo e vabbè spero che questo video vi sia stato utile se avete domande di qualsiasi genere riguardo a come installare le mod o robe varie potete scriverlo nei commenti io cercherò di aiutarvi se questo video vi è stato utile come sempre mettete un mi piace iscrivetevi al canale per non perdere altri video in generale e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti